Dopo 180 minuti di match all'insegna delle emozioni, per l'Alba Verde Galtanissetta è arrivata la prima sconfitta della stagione per 3-7-2 contro la gioiosa Ionica. In terra calabra, il numeroso e passionale pubblico presente ha fatto da cornice ad una gara entusiasmante e giocata fino all'ultimo punto. E' stato necessario il tie-break per decidere l'epilogo del match. Per la formazione di Nissen invece, resta il rammarico di non essere riuscita a chiudere in proprio favore la gara, dopo aver trovato il vantaggio che sembrava decisivo e aver sprecato set match ball senza trovare il punto vincente. Merito soprattutto della gioiosa Ionica, che trascinata dalla brasiliana Suelen Oliveira da Silva, ha giocato un match praticamente perfetto. L'Alba Verde invece, nell'arco dell'intero pomeriggio, si è mostrata troppo discontinua, con alti e bassi che hanno palessato delle lacune sul piano della personalità. Il punto conquistato in terra calabra però consente alla formazione della presidente Oriana Mannella di mantenere il primato in classifica insieme alla stessa Sensation, al Torretta e al Crotone a 10 punti, seguono ad una sola lunghezza Zafferano e Cuscatania. Le ragazze dell'Alba Verde infine avranno modo di dimenticare in fretta la prima delusione stagionale, sabato prossimo infatti al palacanizzario di Caltanissetta arriverà la Fidelis Torretta per un altro incontro da brividi al vertice.